La squadra mobile della Questura di Pistoia ha eseguito stamani su ordine del procuratore del Tribunale dei Minori di Firenze, Antonio San Germano, che ha assunto la direzione delle indagini, la perquisizione personale domiciliare a carico di due giovani, nati nel 2005 e nel 2007, entrambi residenti a Pistoia, indagati insieme ad un altro soggetto in corso di identificazione per lesioni in concorso in riferimento all'aggressione avvenuta lo scorso 3 ottobre davanti all'istituto professionale in Audi di Pistoia. La vittima, un ragazzo del 2007, all'uscita di scuola venne preso a pugni e strattoni fino al punto di fargli sbattere la testa contro la saracinisca di un esercizio commerciale sull'altro lato della strada, riportando la frattura di una costola ed un trauma cranico. Il tutto di fronte agli altri alunni e ai genitori presenti per riprendere i figli all'orario di termine delle lezioni. Nel corso dell'azione gli aggressori avevano inoltre colpito al volto, cagionandogli una ferita e la tumefazione delle labbra, un ragazzo del 2004, alunno dello stesso istituto, che, reso si conto del pestaggio in atto, si era interposto tra i tre e la vittima. L'indagine della squadra mobile ha consentito di risalire all'identità di due degli aggressori, uno dei quali con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati i cellulari degli indagati, nonché gli indumenti indossati dagli stessi al momento dell'aggressione.